Sì, è proprio di posto di leggiatura dove venire quest'estate, invece di andare a Lassio, è tranquillo. Ma questa luce qui rossiccia, mica è bella? Le ocche? Dove è la chiesetta? La montagna, la montagna. La montagna, la 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 la. Solo sul segno. La montagna, la montagna, la montagna. Inizialmente, state in stand by i documenti da 30 km, che siete intanti a richiesta da 8 km o da 15 km. Ripeto. Oggi, oggi, oggi. Aspetta. Qui, qui è la partenza dei miei percorsi. tutto è stato fatto per la massima sicurezza 90 km da arriva 90 km è il quale è il massimo chi ha delle altre informazioni da darvi vai Vicky dove è il palazzolo sul segno cosa viene con un piccolo trip ok dopo passiamo una cosa veloce poi andiamo lì va bene grazie ah che buona grazie ok ah che io ah 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 Grazie a tutti. 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 12.45. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 Lorenzo, fa il giro, c'è. Girtemelo, girti, girti un secondo, girti.